La farò breve, Janet. Di cosa parli? Basta insulti, ritardi, furti. Io non insulto. Hai insultato Gesù. Mi ha provocato. E chi ti ha detto? Buongiorno. Chi crede di essere una principessa Disney del capo? Un'altra settimana folle, perfida e pericolosa a Westminster. A domenica prossima. Sei un presentatore. Sì. Sei famoso. E o meno la gente ci guardava. Nessuno ci guardava. Sono Shavus o Hannigan. Non c'è nessuno che mi conosca qui a Banffast! Diventiamo amanti. Cosa? Janet ha un ragazzo. Davvero? È uno qualunque, non è uno qualunque. È famoso. E anche la sua donna. Ha una donna? Lo so, è terribile. Primo, possiamo essere amanti solo a Banffast. Secondo, non possiamo innamorarci. Così io non soffro. E tu neanche lei. Ecco i posti che voglio vedere. C'è spazio nel programma per una visita al Big Bang. Ho dimenticato il Big Bang. No, 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 parlavo di un po' di... Chiami il tuo pen e Big Bang. Sai come sono gli uomini inglesi? Devi essere molto spacciata con gli uomini. Sono troppo educati. Sorpresa. Vuoi leccare la mia crostata? Come? Oh no, la patata... Dopo una notte con te, non potevo smettere di pensarti. Ha dichiarato in tv il suo amore per quella donna e affrontiamo le ripercussioni da tutto il giorno. Distruggo tutto quello che tocco. Non mi importa, distruggi. Decidimi, non è proprio. Perché proprio lui è un coglione? È occupato. È inglese.